Ben ritrovati a Spazio Reteo, questo pomeriggio con me c'è l'Avvocato Pino Pellegrino. Buon pomeriggio, buon pomeriggio ai telespettatori. Allora Avvocato voglio partire subito con una domanda perché ieri stavo guardando sottovoce, no questo programma con Gigi Marzullo che mi piace tanto, mi piace un sacco. Allora Gigi Marzullo chiedeva all'attrice che era con noi in studio, ma perché fai l'attrice? Quando ha fatto sta domanda, domani glielo devo chiedere all'Avvocato. Avvocato perché fai l'Avvocato? Per passione sicuramente e perché sin da quando ero ragazzo a casa mia si leggeva il Roma, perché mio padre aveva quelle tendenze, il Roma però aveva una consistenza molto diversa rispetto ad oggi. Ed in effetti c'era un magnifico giornalista che si chiamava Sandro Calenda e faceva la cronaca giudiziaria. Raccontava i processi, raccontava gli interventi degli avvocati, i batti vecchi e talvolta riportava anche le arvinge. Queste letture mi appassionavano e io mi proiettavo in quest'Avola di Giustizia e allora sognavo di vestire la toga. Ogni tanto ho anche marinato la scuola per andare a vedere qualche processo. Questa è bella, non andavo a scuola per vedere... Sì, e avevo solo il problema della giacca perché una volta per accedere in tribunale... Andavo fino a Napoli a vedere il... No, io ho frequentato istituti napoletani, sono stato al liceo a Napoli e quindi avevo solo il problema della giacca perché non potevo uscire in giacca perché all'epoca non si usava e quindi qualche volta dovevamo raccattare una giacchetta così alla Minoveccio perché se no non era consentito l'ingresso in tribunale senza giacca. Questa è bella però, una passione che era talmente forte che la spingeva ad andare a guardare i processi... E a vestire la giacca. E a vestire... E qual è stato all'epoca? Stiamo parlando, insomma, di... penso negli anni 70, no? No, prima, prima. Io ho frequentato il liceo nella seconda metà degli anni 60 e ho preso la maturità classica nel 69-70. Che liceo ha frequentato? L'Umberto? No, l'ho frequentato il Vittorio Emanuele al Ginnazio. Era più vicino a Giuliano, era più facile arrivarci. E al Genovese sì perché andai via dal Vittorio Emanuele perché ebbi dei dissidi col preside. Eravamo poi in piena contestazione in quegli anni. Avvocato, in tre, quattro frasi già ci ha rivelato cose bellissime. Che dissidi ha avuto il preside? No, in piena contestazione, siccome il Genovese era molto più libertario, era il tempo degli scioperi, delle manifestazioni, era, come posso dire, un'epoca di crescita e di grandi scoperte quotidiane in tutti i settori. Sono stati anni meravigliosi. Sì, avevo 16 anni, sì, perché sono nato nel 1952. Io le faccio vedere delle bellissime foto. L'avvocato mi ha mandato delle foto bellissime in bianco e in nero. Con un po' di timidezza perché ho avuto qualche difficoltà. Questa bella foto, partiamo proprio dagli albori. Suppongo che siano i suoi nonni, i suoi genitori. Ce ne vuole parlare? Allora, i miei nonni, quello in alto, si chiamava Michele De Nozza ed è il mio nonno materno, padre di mia madre. Tutti originari di Giuliano? No. Lui era lucano, di Genzano per l'esattezza. e si era trasferito a Napoli perché era il preside del Gian Battista Vico, l'Istituto per Geometri, ed era docente universitario di chimica. E lì conobbe la moglie, sposò e mia madre è nata a Napoli ed abitavano al Corso Vittorio Emanuele. Nonno Giuseppe, invece, questo signore più austero, anche perché, diciamo, bell'uomo, sicuramente sì, nato anche prima in altri tempi, era tipicamente giulianese ed aveva l'esattoria comunale, era l'esattore comunale di Giuliano. In sostanza, nel nostro palazzo, quello che sta a soccorso campane, dove io per anni ho avuto lo studio, all'epoca c'era l'esattoria comunale e l'esattore era mio nonno Giuseppe. Questi altri due penso siano i miei altri. Questi sono i miei genitori. Ah, i suoi genitori. Questa è mia madre in una foto estiva scattata a Lidoraia, poi le dico che erano degli stabilimenti valneari di Arco Felice. Questa foto bellissima, con mia mamma e mia sorella Flora, la mamma di Carmine Giustiniani, che è mio nipote. Ah, ecco, tutte rivelazioni oggi pomeriggio con l'avvocato. Dove siete qui? Siamo ad Arco Felice. Che all'epoca questa zona era una zona bellissima, no? Per andarci al mare, Lidoraia, Varca Tour, Arco Felice. La zona del nostro litorale, quello di Ligo, la Lago Patria, Varca Tour, era una zona splendida, ma assolutamente selvaggia. Lo dicono tutti. Non c'era nulla. Era però bellissima perché c'era la macchia mediterranea, un mare splendido. Però, diciamo, i bagni, come si diceva, si prendevano nella zona di Arco Felice dove c'erano degli stabili. I bagni sarebbero le cabine, no? Esattamente. Le cabine. C'erano degli stabilimenti baneari attrezzatissimi. Eccole, con questa foto si vede benissimo. Questa invece, no, è successiva in un secondo momento ed è stata fatta a Licola, colpabilmente in quello che oggi si chiama Lido Ledune, all'epoca si chiamava Lido Lubrano. Lo ricordo, c'è ancora Lido Ledune. Non era Giuliano, però quello era Pozzuoli. Era ancora Pozzuoli. Era Pozzuoli. E qui si vedono le cabine, i cosiddetti bagni. Erano delle suite, praticamente. Che poi all'epoca, insomma, si portava. Cioè, tutte le persone del territorio andavano lì al mare, no? Cioè, si facevano dei grandi pranzi. Arrivavano teglie di pasta al forno, polpette, frutto. Cose bellissime. Una cosa incredibile. E il mare era pulito, non come oggi, insomma. Però era sempre un po' verdognolo, ma mai... Forse per il lago? No, per via del fondale. È un mare che non sarà mai trasparente, perché il fondale non lo consente. Anche quando era pulitissimo, come all'epoca, anche se, debo dire, prima dell'installazione, della creazione del depuratore di Cuma, perché gli scarichi in quella zona avvenivano direttamente a mare. E non era talvolta un bel vedere, eh, debo dire. Qui c'è un'altra bellissima foto, penso, suppongo come il suo padre. Questo è sempre lì da ora, questo è mio padre. Questo è il suo padre. Che uomo è stato il suo padre? Mio padre, per quanto mi riguarda, è stato un uomo di una tenerezza infinita. Era avvocato? No. Ah, quindi non ha... Mio padre... È stato proprio una sua passione personale, quella dell'avvocatore. No, non sono figlio d'arte, diciamo... L'ho maturato... Però le sue figlie, sì, poi ne parliamo. E anche perché, devo dire, sì, io ammiravo grandemente l'avvocato Luigi Palumbo, per la verità, che è stato, era un nostro concittadino ed è stato un avvocato di primissimo ordine, un avvocato di grande talento, di grande capacità e di un carattere, vorrei dire, leonino. Non escludo, siccome ho avuto sempre il piacere di conoscerlo e di frequentarlo, perché eravamo amici di famiglia, che anche questa conoscenza abbia influenzato la mia scelta. perché mi piaceva... Le piaceva, è stata proprio una cosa che è nata da dentro. Le volevo far vedere un'altra foto, queste delle di quando erano ragazzi, ma che bambino era? Un po' scalmato. Un po' privace, no, no, abbastanza... Però, diciamo, credo di essere stato sempre sostanzialmente ubbidiente. Anche perché, ripeto, io sono l'ultimo di cinque figli e sono nato a distanza di tempo. Io ho sorelle, diciamo, anche in età avanzata, la mia prima sorella. E quindi sono stato un po' allevato come un figlio unico. Forse un tantinello viziato, perciò, come dicevo prima, un ricordo tenerissimo di mio padre, perché mio padre è stato per me, come posso dire, una guida, una persona sempre vicina. Un padre. E anche mia madre. Lei prima mi diceva una cosa molto bella, mentre parlavamo delle foto, no, prima, insomma, di iniziare la trasmissione, che all'epoca si scattavano le foto, ma, insomma, ci si andava piano perché costavano tantissimo. E lei mi diceva, nonostante io facessi parte di una famiglia benestante, i miei genitori mi hanno insegnato a non strafare, a non essere... No, ma noi eravamo abituati ad accontentarci di poco, per la verità. E tutto sommato eravamo anche felici, perché non è che avessimo molti soldi in tasca. Lo stretto indispensabile. Quando cominciamo ad avere qualche piccolo vizietto, tipo le sigarette, o magari qualche volta si marinava la scuola per uscire con le ragazze e andare al cinema, che allora facevano... Che cose belle che si facevano prima, si usciva e si andava al cinema. I cinema napoletani facevano il matinè al modernissimo, non sempre si potevano mettere insieme i soldi necessari per fare un po' tutto, anche perché poi tutto era a carico esclusivo del maschio, la donna e la ragazza non doveva pagare. E diciamo molte volte per far quadrare il bilancio, qualche volta qualcuno si vendeva anche i libri per la verità e poi dopo se li comprava, cioè un po' qualche piccolo espediente. Quando poi è arrivato all'università, suppongo abbia frequentato la Federico II a Napoli, che anni invece sono stati quelli lì? Sono stati anni diversi. Come ha fatto a combaciare l'essere comunque, appartenere ad una famiglia tipicamente del paese, Giuliano è sempre stato un pesone, però una famiglia di paese e poi a vivere tutta la sua esistenza in città? Ma guardi, io le posso dire una cosa, ed è questo che mi rattrista molto. Giuliano è stata sempre una cittadina evoluta, ma dal punto di vista del pensiero, delle attività culturali, delle attività sociali ed ha avuto sempre fior di professionisti, nonché persone che si sono distinte sempre nei rispettivi campi. Devo dire che i giulianesi di una volta non avevano nessuna difficoltà di inserirsi in un tessuto sociale cittadino. non portavano certamente addosso il marchio del paesano, orocafone, come si usava a dire... Come l'epoca si diceva il cafone. ...del cafone, come si usava a dire all'epoca. E siccome praticamente buona parte della popolazione studentesca giulianese frequentava istituti napoletani all'epoca... Perché non c'erano scuole, o forse si era il liceo dei Carno, ma non era... No, a Giuliano no, tra le immagini che io ho frequentato le medie alla scuola statale, diciamo, a Giuliano, l'elementare invece dai maristi. E quando ha aperto questa scuola statale, trovo alloggio in un cortile sul quale accedevano dei terrami... Anche lei ha frequentato i maristi. Sì, sì, a Via Giardini. La migliore gioventù giulianese ha frequentato i maristi. Poi man mano si siamo spostati a Via Roma, eccetera, quindi ma non c'era il liceo, questo è venuto negli anni 90, diciamo alla fine degli anni 80. E quando lo scientifico forse sì, ma per chi volesse fare il classico la scelta era tra Napoli ed Aversa. È vero, perché poi... Dove il liceo Cirillo, per la verità, era un liceo di ottima tradizione, frequentato anche da personaggi che poi hanno avuto un rilievo istituzionale a carattere nazionale. Poi ne parliamo di quest'altre presenza. E tra queste ragazze che portava al cinema, per caso, c'era questa bellissima donna che poi è diventata sua moglie, ce ne vuole parlare. Sicuramente sì. Questa foto, insomma, siete giovanissimi qui, no? Sì, è una foto degli anni 80, supponso. No, prima. Prima? Ah, perché l'avetevo già a colori. È una foto degli anni 70, per la verità. Come vi siete incontrati? Ci siamo conosciuti nel Pullman. Nel 160, per caso. 160, il mitico 160. Ma il 160 era praticamente un social. Un luogo d'incontro. Esatto, era un social. Il social del tempo era un luogo d'incontro. E siccome, ovviamente, spesso si trovava il traffico nella zona di Capodimonte per arrivare a Piazza Dante, dove c'era lo stazionamento, capitava che trascorresse un'ora durante la quale, naturalmente, si socializzava in tutti i modi. E magari poi qualcuno coltivava anche l'idea che forse era meglio non andare a scuola e prendersi una digressione. Anche sì, perché il 160 passava per Capodimonte, quindi passava a scendere ad andare al bosco, no? Esattamente. I filoni si facevano. Negli anni 90 il filone io lo facevo al bosco, perché nel 160 ci portava là. Mentre il paese in quegli anni, il costume, era più avanti rispetto alla scuola, che aveva ancora una gestione tradizionalistica, mentre in effetti noi eravamo un tantino più avanti ed eravamo anche un po' insofferenti di queste restrizioni. Per cui, devo dire la verità, marinare dal volto alla scuola era un modo come un altro, diciamo così, per respirare. Ecco. E per farsi un po' di spazio. Esattamente. Tra... Ah, ecco, mi segnalano che siamo già ai 15 minuti, però mi ha bloccato proprio su questa, perché questa domanda la devo fare. Da questa bellissima tona sono andate tre bellissime figlie che hanno seguito le orme del padre. Due di esse. Perché Livia, la mediana, diciamo, si è voluta discostare da questo trend familiare e lei è psicologa, si è laureata a Roma, alla Sapienza, però con una specialità, non è psicoterapeuta, è una psicologa del lavoro, si occupa di relazioni psicologiche negli ambiti lavorativi. Una cosa un po' complicata, anche un po' velleitaria, da paese nord-europeo, diciamo, però è questo. Però è soddisfatta e felice delle sue figlie, no? Certamente. Molto. 15 minuti, devo staccare, ci vediamo dopo. Sono soddisfattissimo. Buon pomeriggio. Oggi vi parlerò della domotica, un argomento che ancora oggi risulta poco chiaro. Iniziamo a dire cos'è la domotica. È lo studio delle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita in casa. La vera domotica è molto di più di un dispositivo come Alexa. Un vero impianto è in grado di gestire la casa, anche e soprattutto in termini di efficienza. Questo vuol dire, in parole semplici, che una centrale può sì gestire l'antifurto, l'illuminazione, l'apertura delle porte e delle tapparelle, ma può e deve gestire, ad esempio, anche i carichi elettrici per ridurre i consumi in bolletta. Può e deve agire al posto dell'uomo, senza comandi. In pratica è come avere una sorta di maggiordomo che gestisce casa. La casa si adatta automaticamente alle nostre esigenze. Tutto questo può sembrare fantascienza, invece è attualissimo. Ed è una tecnologia alla portata di tutti. Parliamo di prodotti che partono da un minimo di investimento di 300 euro. Vi ringrazio per l'attenzione, vi aspettiamo da Reteo. Alla prossima. Ben ritrovati a Spazio Reteo. Continuiamo con la seconda parte della nostra intervista all'avvocato Pino Pellegrino. Parlavamo, insomma, della soddisfazione delle tre figlie, due avvocati, una psicologa. Però io volevo riaprire con questa foto che lei mi ha mandata, perché mi ha un sacco fatto tenerezza. Cioè, quest'uomo che lei tiene per mano e sotto braccio. Chi è? Chi è quest'uomo? Quest'uomo, se non avesse fatto il ministro della giustizia durante il fascismo, sarebbe passato alla storia come il più grande oratore di tutti i tempi. È Alfredo De Marsico. Un grandissimo avvocato, il maestro degli avvocati. Napoletano. Napoletano. Secondo alcuni, ma senza enfasi, è stato, diciamo, appunto secondo, mi ripeto, soltanto a De Mostene, il grande oratore dell'antichità greca. Perché ci tiene particolarmente a questa foto? Perché Alfredo De Marsico è stato per il foro napoletano una sorta di nume, una divinità religiosa. Si immagini, noi no. E' una varia ispirazione a tantissime persone. Noi no, perché appartenevamo a un'altra generazione. Ma io ricordo esattamente che avvocati prestigiosi, più grandi di me, sovrebbero baciare la mano al maestro De Marsico. Cosa c'era, diciamo, nella sua professionalità, nella sua persona, che è stata, insomma, una persona... Era l'esaltazione di una cultura enciclopedica che veniva fuori attraverso la elaborazione del discorso difensivo di ogni argomento che veniva padroneggiato come se fosse suo. Mi riferisco dalla medicina legale, alla tecnica e a tutte le altre scienze alloscibili, vorrei dire. De Marsico era in grado di interpretare magistralmente qualunque disciplina e trasferirla nel processo penale. Io non l'ho detto, lei è un avvocato penalista. Questa è una cosa, insomma, l'ho chiamata avvocata, però è un avvocato penalista. E lei vorrei fare una domanda che molte persone se la fanno. È una domanda, effettivamente, un po' populista, però io la voglio fare. Come fate a difendere certa gente? Ecco qua, sono più domanda per l'avvocato. Molte persone se lo chiedono. Perché è una domanda di come fai a difendere l'assassino, o come fai a difendere il rapinatore, il camorrista? Le persone non capiscono che questo è un lavoro, però voglio che mi rispondate proprio su questo. Innanzitutto per dire difendere un camorrista occorre che questa qualità, chiamiamola così, questa caratteristica, venga accertata con una sentenza. Per cui il camorrista non è mai quello che viene difeso nel processo, ma semmai, dopo che è passata in giudicato la sentenza, diventa tale. Ora, siccome in un paese civile ognuno ha diritto ad una difesa tecnica senza discriminazione di alcun tipo, e questo riguarda anche i comuni cittadini come noi, perché diversamente da quanto si crede, in effetti non è difficile finire sotto processo. Ma per tutta una serie di ragioni, certamente non per fatti di criminalità organizzata, ma un medico può avere un problema di responsabilità professionale, perché magari fa il morto in sala operatoria, l'ingegnere viene accusato di aver sbagliato dei calcoli, il cittadino di avere perso il controllo di un'autovettura e fa una vittima della strada. E il processo serve ad accertare la responsabilità. E l'avvocato è chiamato, advocatus chiamato appunto, a difendere il cittadino nei confronti di chi esercita la pretesa punitiva, ovvero dello Stato, che non è sempre infallibile. anzi, molto spesso è fallibilissima, per cui a questo potere occorre contrappurre, non dico un contropotere, perché noi non esercitiamo alcun potere, ma comunque una forza opposta e contraria, che è rappresentata dall'attività difensiva. Le faccio vedere, ottima risposta, ovviamente non avevo dubbi che mi rispondeva in modo ottimo, però le faccio vedere questa altra foto, mi ha detto, io ci tengo particolarmente a questa foto, perché? Questo è il mio secondo fratello, io ne ho avuti due, uno era mio fratello di sangue, ed è Michele, anche lui scompare, quest'altro era mio cugino, anche lui Michele, che ha condiviso con me tutta l'infanzia, gli studi, la scuola, l'università, la vita familiare, fa l'avvocato anche lui, è morto, lui era avvocato del comune di Giuliano, nel 2012, purtroppo, per una serie di questioni. Quindi un legame fortissimo. Molto, ho detto, è una persona alla quale faccio riferimento, per una ragione o per l'altra, tutti i giorni, ma devo dire sempre in maniera serena ed allegra, perché lì era spassosissimo e arguto, per cui ogni cosa che mi ricordo, lo rievochiamo di continuo, sia io che mia moglie, perché poi siamo stati una triade. È rimasto nel cuore, rimarrà nel cuore per sempre. È il papà di Alberto Pellegrino. È che io conosco, avvocato anche Alberto. È il papà di Alberto. Le faccio vedere un'altra foto, prima l'abbiamo accennato, no? Che è la foto con Raffaele Cantone? È con Vittorio Lemmo, per la verità. Io ho riconosciuto solo Raffaele Cantone. No, no, Vittorio Lemmo è stato il mio maestro, l'avvocato presso il quale ho iniziato la pratica forense, e al quale debbo buona parte della mia educazione professionale. Se ne ho uno, il mio stile, il mio modo di affrontare le cose, perché è un avvocato di grandissimo spessore. Ora non esercita più per quanto potrebbe tranquillamente, ma per una sua libera scelta. È l'altro. È Raffaele Cantone. Sono tre generazioni a confronto. È il nostro concittadino più importante, Sicuramente sì. È con merito, devo dire. È con molto, molto, molto merito. Che legame ha con Raffaele Cantone? È un legame molto intenso, anche se non viene coltivato in maniera quotidiana, ma come posso dire, è un sentire comune. Raffaele è stato il mio primo praticante. Scelse di venire a fare pratica. Questa non la sapevo. Sì. Avevamo scoperto un'altra cosa. Mi ha scelto di venire a fare pratica nel mio studio, ed è stato quattro anni con me. La cosa della quale gli sono grato è di avere ripercorso questi periodi nel suo primo romanzo, Solo per giustizia, che è un romanzo suo autobiografico, nel quale... Che è molto bello, che l'ho letta, a me è piaciuto tantissimo. Sì, dedica un capitolo a questi suoi inizi dall'altra parte, diciamo, perché lui voleva fare l'avvocato. Spiega anche perché poi mutò, diciamo, in corso d'opera la sua originaria intenzione. Ed è un legame che è rimasto... Vi sentite ogni tanto? Sì, sì, ma soprattutto... Mi pare tornerà tra di noi, tra un po', no? Tornerà probabilmente in campagna, si dovrà vedere. Sì, sì, lui ha fatto domanda per alcune procure che il cui vertice dovrà rendersi vacante tra poco, perché chiaramente lui è nel 2020, credo, sarà in scadenza di mandato e ha sempre manifestato l'intento di ritornare il magistrato. Di ritornare a fare il magistrato. Anche se... Glielo augura. No, io glielo auguro, sicuramente. Penso l'hanno invocato come presidente del Consiglio, presidente della Repubblica. No, ma... Oramai ogni cosa... Cioè, Raffaele Cantu... Guardi, Raffaele potrebbe fare tutto, praticamente, glielo dico io. E io non sono facile nell'elargire queste qualificazioni alle persone, perché è una persona che riesce in tutto quello che fa. Ovviamente, in determinati ambiti. Non dico che se volesse fare il palombaro o l'astronauto riuscirebbe. Assolutamente no. Però, voglio dire, in questi settori. E quindi, lui come magistrato è stato eccellente. Ha dato il meglio di sé. Lo ha dato in un momento in cui c'era anche una maggiore esposizione. Tanto è vero che poi si è dovuto allontanare. Lui ha cominciato con i Casadesi, con tutt'anno. Manco con la camorra napoletana. Ha cominciato con la camorra casertana e da lì poi ha avuto... Sulla scia di Raffaele Cantone poi le procure si sono date una diversa impostazione. Si è cominciato a parlare di pull. Si è un po' spersonalizzata la figura del magistrato. È un mio figlioccio. Speriamo che veda questa intervista così, insomma, ricorderà. Gliela faremo avere. È probabile. Lei volevo chiedere un'altra cosa. Le faccio vedere innanzitutto un'altra foto che questo penso che è in veste professionale. Sì, vabbè, fino a un certo punto perché sono un po' descamisato. Come vede? Secondo me suppongo che sia una foto di quando si è candidato. Eh, questa è una pagina che non possiamo toccare. Io ho proprio gli ultimi minuti. Lei è stato candidato per il Partito Democratico. Che esperienza è stata? All'altro non ce l'ha fatta per poco, voglio dire. Beh, per poco. In una tornata elettorale Siamo stati travolti dai cinque stegni. Era una tornata elettorale abbastanza difficile. Se avessero candidato un segnale stradale io dico sempre sarebbe stato eletto lo stesso. Vabbè, non voglio dire per carità che il mio competitor del tempo l'onorevole Micillo sia un segnale stradale. Per l'amor di Dio me ne guarderei bene. Però voglio dire il trend era quello. Abbiamo scelto il momento peggiore. Ma mi ha fatto molto piace. È stata un'esperienza straordinaria. Mi ha aiutato a vedere le cose da un altro punto di vista. Il punto di vista del bisogno effettivo dell'agente non di quello che io raccolgo come professionista perché veda la domanda di giustizia il bisogno personale familiare è una cosa pressante e costituisce proprio l'insè della mia professione. Ma vedere le cose da un altro punto di vista e magari sentire dalla voce delle persone che non hanno neanche la possibilità di prendere il pulmino per accompagnare i figli a scuola per esempio perché ho fatto riunioni anche nei sottoscala nei condomini a Calvizzano e tutto il resto appresso mi ricordo personalmente. Questa cosa mi ha colpito perché noi siamo abituati a darle per scontate. Per questo io ritengo che il Partito Democratico abbia commesso una serie di errori privilegiando l'aspetto elitario dei problemi senza curarsi dei bisogni della gente. Ed è per questo che forse è stato punito dall'elettorato l'anno scorso. Tra l'altro non va manco meglio voglio dire non è che si sta riprendendo. Perché c'è sempre un clima da tutti contro tutti lei lo sa io quando sono stato candidato sono stato accolto nella mia città come se fossi stato un ladro avrei avuto una migliore accoglienza devo dire come una sorta di usurpature non so che dire. La caccia all'umo è stato un periodo particolare sicuramente. Io mi riferisco anche a coloro che militano militavano il partito democrazio gli artefici della democrazia praticamente quelli che sono legati alle conventicole e pensano che magari l'estraneo che viene da fuori viene a grattare nell'orticello apparteniamo a un'altra mentalità per la verità ma questo è un altro ce lo diremo in un altro contesto le faccio vedere una delle ultime foto è che questa è la foto con la sua famiglia e tra l'altro vede una bambina che è sua nipota Maria Claudia mia nipote che ha quasi 10 anni è la figlia di mia figlia Vittoria la prima la prima l'avvocato anche Vittoria è avvocato e quest'altro bambino e questo è l'ultimo arrivato dopo 45 anni in casa Pellegrino sia pure indirettamente è arrivato è arrivato il maschio si chiama Edoardo a tre mesi è il figlio è il figlio di Vittoria e lui è il marito Francesco Virag di origini ungheresi dove si vede tra 10 anni avvocato io ho finito il tempo io spero di vedermi nelle cose che faccio attualmente anche perché ho lanciato un preciso monito alle mie figlie quando e se vi doveste rendere conto che io magari mi sono rimbambito vi prego ditemelo francamente che io mi faccio da parte ma fino a che posso sono talmente innamorato di quello che faccio che lo farò fino a che avrò forze e energie sia mentali che fisiche tra 10 anni la ritroveremo ancora nelle aree di tribunale io andrò in pensione va a breve ma noi abbiamo la possibilità di continuare eccetera e anche di cumulare i nostri redditi con grande diciamo soddisfazione del fisco è tutto è tutto qui mi dispiace che è finito il tempo volevo fare altre domande all'avvocato ma la nostra trasmissione termina qui grazie avvocato è stato con noi è stato un piacere grazie